E' stato deciso di lasciarmi a casa pagandomi, sì queste le esatte precise, proprio coincise parole di Luciano Spalletti, sì signori miei buongiorno, sì 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 sì, e lasciatemi dire una cosa in descrizione proprio perché vi voglio bene, poi non dite che vi tratto male, vi voglio veramente bene, in descrizione vi metto anche il video di questa intervista che lui ha rilasciato per Sport Italia e dove, vi dico subito, le risate sono assicurate, sì sì, no non sembrava un'intervista, sembrava una gag conca, una commedia, una commedia teatrale, la cosa, la roba bellissima, io non ho mai riso così tanto in vita mia, Cioè un terzetto stupendo, Criscitello, Criscitiello scusate, Criscitiello, Pedulla Spalletti, cioè una roba, una roba assurda, quello che hanno fatto sti tre, una roba assurda, con Spalletti che sbeffeggiava e correggeva ogni secondo Criscitiello, con Pedulla e Spalletti che si tiravano il microfono, quello che non glielo dava perché c'era solo un microfono, quello invece se lo teneva e che voleva, cioè una roba assurda, roba che Totò, Peppino e Giacomo nella banda degli onesti, sono dei provinciali, sono dei novellini a confronto e volete ridere? Volete ridere? Vi metto il video, guarda, proprio perché sono buono, oggi sono buono, vi metto il video, andatelo a vedere e ritornatemi e fatemi sapere se veramente vi fa ridere, cioè tre pazzi scatenati, tre pazzi scatenati. Allora, detto questo ragazzi, scarichiamo anche l'app OneFootball così rimaniamo aggiornati, H24, su varie notizie, su tutto e di più nel mondo del calcio, in descrizione cosa c'è, cosa c'è, ormai lo sapete cosa c'è, c'è il link, eh? Lo sapete, sì, e va, va soltanto scaricata l'app OneFootball. Ok, vamos ragazzi, vamos. Allora, le parole di Spalletti non la raccontano giusta, nel senso che lui dice solo quello che gli fa comodo, perché in realtà, a livello teorico è così, è stato deciso di lasciarlo a casa pagandolo, ok? Però lui rivendica questo fatto per dire che poi alla fine non mi hanno lasciato andare al Milan, cosa ha fatto non vera, cosa ha fatto sbagliata, scorreggiamo, ecco, perché lui pretendeva una buona uscita con i controcoglioni, e allora, attenzione, l'Inter dice, scusa, se devo pagarti bene e comunque devo favorire una mia rivale, perché comunque mandare Spalletti al Milan è anche un po' favorire una rivale, perché Pioli e Spalletti, ragazzi, con tutto il bene per padre Pioli, ma Spalletti, ragazzi miei, qualcosina in più, poteva darle al Milan. Allo stesso tempo non è un mago, però sappiamo bene che poi alla fine non si sono accordati, perché se lui non pretendeva nulla andava tranquillamente al Milan, non lo legava nessuno all'Inter, assolutamente. Anzi, anche per questo è l'ennesima dimostrazione, secondo me, di forza di Suning, è l'ennesima dimostrazione di forza, di ancora comunque poter permettersi anche di tenere a stipendi un allenatore del genere, pur di non favorire un avversario, questo ti dimostra l'ennesima dimostrazione di forza. Attenzione, perché ricordiamoci anche le nostre rivali in passato come hanno agito, la stessa Juventus. La stessa Juventus, anno dopo anno, ha cercato sì di rafforzarsi, ma soprattutto di indebolire le altre squadre. Vi ricordate i vari acquisti mirati, i guai dal Napoli o prima ancora pianisce dalla Roma? Cioè, acquistare con assennatezza, acquisti ma cerchi anche di tenere lontano le rivali, di indebolirle. Ecco, allo stesso modo l'Inter, cioè dice, se comunque ti devo pagare, caro Spalletti, e per qualche milioncino ti devo mandare al Milan, preferisco questo milioncino comunque spenderlo pagandoti, ma ti faccio stare a casa, piuttosto che mandarti al Milan. Questo è il discorso che ha fatto l'Inter, io approvo ancora una volta come si è mossa la società, assolutamente. Venendo a lui, ragazzi, qualcuno dice, la tifoseria dell'Inter è divisa su Spalletti, sapete? C'è chi dice, è, ha fatto bene, l'Inter lo ha trattato male, c'è chi dice invece che Spalletti è vergognoso tatticamente, ha fatto pena all'Inter e quant'altro. Io dico che la verità ancora una volta, come sempre, stia nel mezzo, perché è vero, e come lui stesso poi rivendica, è vero che lui ha centrato quelli che erano gli obiettivi, erano gli obiettivi, ma è anche vero che questi obiettivi sono stati centrati veramente in modo risicato, ma proprio risicato, risicato, perché nonostante gli obiettivi centrali, l'Inter l'anno scorso è finita a 20, quanti punti? L'Inter 69, la Juventus 90, a 21 punti di distanza dalla prima, l'anno prima ancora a 23, mi sembra, mi sembra a 23 dalla prima, sì, a 23 dalla prima, e in entrambi gli anni l'Inter si è qualificato un punto l'anno scorso sopra il Milan, e non all'ultima giornata, come si dice, perché l'Inter si è qualificata all'ultima giornata, sbagliato, l'Inter si è qualificata all'ultimo secondo, con l'Empoli ci siamo qualificati all'ultimo secondo, se D'Ambrosio non la prende sulla linea, stammi bene, stammi bene, stammi bene, all'ultimo secondo, stessa cosa l'anno prima con la Lazio, tu l'anno prima con la Lazio, ti sei qualificato, centrando gli stessi punti della Lazio, entrambi a 72, quindi l'anno scorso hai fatto meno punti, l'anno scorso hai fatto meno punti di due anni fa, cioè capite un po' voi, quindi è vero, ha centrato quelli che erano gli obiettivi, ma se volevi fare quel passo in più, quel passo in più, dovevi cambiare guida tecnica. Però allo stesso tempo io, ripeto, io dico grazie Spalletti per quello che ha fatto, ma allo stesso tempo va bene così, assolutamente, perché comunque ha fatto delle cose buone, ma ne ha fatte altrettanto che non andavano, una delle tante cose buone, Brozovic in mediana, quella è stata, secondo me, una mossa tattica geniale, che assolutamente ha funzionato, ma allo stesso tempo, con quel suo modulo di 4-2-3-1, se non fosse successo il patatrack con Icardi, non ci saremmo mai ritrovati un Lautaro Martinez titolare, non avremmo mai forse conosciuto un giocatore così forte, così pronto, la scommessa di mercato l'ha sbagliata completamente, perché è vero che l'Inter con lui non aveva marcini di trattativa, nel senso che non poteva muoversi come voleva sul mercato, come poi invece è stato con Conte, però è vero che quello che è stato l'acquisto che lui voleva fortemente, lo ha tenuto, ossia Nainggolan, e Nainggolan non venitemi a dire che nell'Inter abbia fatto la differenza, perché quelli che mi dicono, no ma grazie a Nainggolan siete andati in Champions, veramente, veramente devono, devono secondo me, con tutto il buonismo di questo mondo, ma devono cambiare sport, perché Nainggolan era stato preso per fare la differenza in 40 partite, almeno in 30, e invece in 40 partite la differenza se l'ha fatta in tre gare, ma proprio voglio essere buono, te ne dico quattro, già è tanta roba, e francamente ricordiamoci che per Nainggolan abbiamo regalato Zagnolo alla Roma, ma quello che non vi ricorderete è che Nainggolan è stato anche preso e sostituito a Rafinha, che si è infortunato, non si fosse infortunato Rafinha saremmo stati sbeffeggiati ulteriormente, quindi ricordiamoci anche questo, e niente, è andata così, speriamo che il buon Spalletti non rosichi tanto, stia più sereno, più tranquillo, più beato, perché è giusto così, comunque andatevi a vedere il video, fatelo se volete ridere, fatelo, io vi abbraccio e vi saluto, un grande saluto, un grande abbraccio, ripetiamolo tre volte, un grande saluto, un grande abbraccio, Taneschio. Taneschio.